Un caro saluto ai nostri telespettatori e benvenuti al consueto spazio dedicato all'informazione di Puglia TV che apriamo con le anticipazioni di cronaca. Banditi in azione a pezze di greco come una settimana fa a Torre Canne, ad essere preso di mira è stato il bancomat della filiale della banca cooperativa di Locorotondo. Il colpo pare abbia fruttato ai malviventi 70.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Banda del buco invece in azione a Ceglie Messapica, ad essere presa di mira la gioielleria Ficarelli a Corso Garibaldi. L'allarme è scattato all'alba quando una guardia giurata dell'Euro Secur City è giunta sul posto. Il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione, indagano i carabinieri del luogo. Lì nella regia c'è la pubblicità, vi aspetto in studio con tutte le altre notizie. Grazie. Grazie.